Restano stabili i contagi nei comuni vesuviani. Nel comune di Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, si sono registrate 9 nuove guarigioni, certificati invece 12 casi di positività, di cui 1 in regime ospedaliero. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati, con 88 attualmente positivi, di cui 10 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata non si sono registrati casi di contagio nelle ultime 24 ore, a fronte di 14 tamponi processati. Al contempo si registrano due guarigioni. Sono 52 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 48.205. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 21.708, il 52%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.497, il 64%.